Ciao, sono Antonio, imprenditore digitale. In questo video vediamo insieme come funziona il dropshipping su ebay e soprattutto come non commettere degli errori. Errori che potrebbero veramente invalidare il business per sempre, quindi assolutamente cose che noi non vogliamo. Quindi comunque sia, intanto vediamo di capire come funziona il drop su ebay. Allora, la prima cosa da capire, insomma, è che si basa sulla quantità il dropshipping su ebay. Questo a differenza del drop fatto con un nostro e-commerce, come ad esempio quello con il metodo classico che usa Shopify. Allora, si basa sulla quantità, vuol dire che dobbiamo andare a mettere in vendita tanti prodotti e quindi dobbiamo andare a scegliere anche dei fornitori che hanno proprio questi tanti prodotti. Il fornitore per eccellenza, quello che usano la maggior parte delle persone, è Amazon. Quindi si può fare anche drop tranquillamente andando a far spedire prodotti ad Amazon e quindi quello che si fa nella maggior parte dei casi è andare a scegliere dei prodotti che hanno un dato prezzo su Amazon per poi metterli in vendita su ebay a prezzo maggiorato. Quindi questo è quello che fanno in molti, quindi quello che poi consiglio io anche all'interno del corso che trovate in descrizione è di non solo basarsi su Amazon ma anche su altri fornitori in modo tale da avere meno competitors, in modo tale da avere meno concorrenza sui prodotti che si vanno a mettere in vendita e quindi andare a scegliere dei prodotti che magari non sta mettendo in vendita nessuno oppure che lo stanno mettendo in vendita in pochi. Ad ogni modo siamo adesso all'interno di Amazon proprio per vedere bene come funziona questo ebay dropshipping e qui possiamo andare a scegliere un prodotto qualsiasi. Quindi adesso andrò a mettere qui elastici fitness, quindi andiamo a cercare questo tipo di prodotto e poi andiamo a scegliere quello dopo gli annunci sponsorizzati, ad esempio questo qui. Dopodiché possiamo anche copiare ed incollare su ebay il titolo per intero, poi ovviamente si può anche soltanto copiare la parola chiave elastici fitness oppure anche insomma qualsiasi altro prodotto che ha una data parola chiave. Comunque per questo esempio proprio copiamo tutto il titolo e lo mettiamo su ebay e poi cerchiamo. A questo punto vediamo proprio dei prodotti che sono identici a quello che abbiamo trovato su Amazon. Ovviamente su Amazon abbiamo un prezzo di 11,99€ mentre su ebay abbiamo prezzi come 19,90€, 18,99€, 16,41€ eccetera eccetera. Quindi come vedete questo è quello che fanno veramente in molti e ovviamente anche si potrebbero chiedere tante persone ma perché la gente dovrebbe andare ad acquistare un prodotto identico ad Amazon però ad un prezzo maggiore. Ci sono tante motivazioni legate a questo insomma poi non tanti vanno a fare la comparazione dei prezzi magari molti sono degli acquirenti non dei venditori scusate fidati di ebay quindi magari acquistano sulla loro piattaforma da diversi anni e quindi semplicemente fanno la ricerca lì trovano il prodotto e lo acquistano. Oppure ancora anche ci sono persone che amano il sistema di pagamento di Paypal e quindi preferiscono usare ebay perché ad esempio su Amazon non è possibile acquistare con Paypal. Quindi queste sono le tre principali motivazioni poi ce ne possono essere anche altre. Ad ogni modo abbiamo trovato appunto questi prodotti identici e degli errori che stanno commettendo queste persone che chiaramente sono dei dropshipper noi che siamo del mestiere lo capiamo in maniera abbastanza semplice perché insomma il titolo le immagini e tutto il resto è identico ad Amazon. E quindi comunque sia quello che stanno sbagliando dicevo intanto è il titolo che potrebbe essere decisamente migliorabile e quindi poi all'interno del corso spiego come. Così come le immagini insomma per quanto riguarda le immagini insomma se noi vediamo sono praticamente tutte uguali cambiano veramente poco se non alcune sono proprio identiche da venditore a venditore non vanno neanche a cambiare immagine e quindi poi la gente che vede la stessa immagine perché dovrebbe andare a cliccare sulla tua sul tuo di annuncio. Magari va a cliccare su quello di qualcun altro quindi questo vabbè questo è un prodotto completamente diverso magari può andare a cliccare con questo che ho visto prima quindi un qualcosa anche che risalta di più all'occhio perché è diverso rispetto alle immagini che il dato acquirente magari ha visto prima e quindi anche uno si può differenziare in questo modo. Insomma poi ci sono tante tecniche per andare ad incrementare le vendite su ebay ad ogni modo se noi andiamo a scegliere ad esempio questo venditore che è dopo l'annuncio sponsorizzato poi andiamo ad esempio nel suo marketplace nel suo store nel suo negozio che si chiama patrons market lo andiamo a cliccare qua vedremo insomma quanti oggetti ha messo in vendita. Allora è dal 2019 che vende su ebay e ha messo in vendita ben 6947 oggetti quindi questo vi fa capire che comunque nonostante stia usando un metodo che è abbastanza diciamo non dei migliori per andare a mettere in vendita i prodotti. Quindi ovviamente potrebbe tranquillamente avere molti più ordini giornalieri attuando determinate strategie comunque se già vende dal 2019 e lo continua a fare vuol dire che profitta molto. Tra l'altro come dicevo prima si basa sulla quantità e infatti questo venditore ha 6947 prodotti. E ovviamente molti anche si potrebbero chiedere ma come ha fatto a mettere in vendita tutti questi prodotti manualmente insomma è un poco difficile da andare a fare capisco anche che lo fa dal 2019 ma quasi sicuramente per avere tutti questi prodotti avrà usato un software. Quindi si può usare tranquillamente un software che mette in vendita i prodotti in maniera automatica e quindi se ne possono mettere anche decine di migliaia tranquillamente. E quindi anche se si usano delle tecniche non proprio delle migliori poi se si hanno tanti prodotti in vendita comunque vendi comunque fai tante vendite giornaliere e quindi il business ti funziona anche abbastanza semplicemente. Quindi poi possiamo andare a vedere tutti gli oggetti e qui insomma poi ce ne saranno vari elencati quindi anche questo vi fa capire cosa la gente sta vendendo nei loro store. Quindi così abbiamo capito in linea di massima come funziona il drop fatto su ebay però adesso passiamo anche alla parte sul come non commettere errori perché come abbiamo detto poi si possono andare a modificare in questo caso foto, titolo, descrizione eccetera eccetera per avere più vendite però questi sono errori di secondo ordine chiamiamoli così diciamo che come abbiamo visto anche vendi lo stesso se comunque fai le cose non in maniera perfetta però c'è anche un altro tipo di errore che la maggior parte delle persone va a commettere che poi fa incorrere in ban e quindi poi ti chiude lo store di ebay e non puoi vendere più perché poi ti collega anche gli account e quindi anche se apri un altro account di ebay te lo chiude nuovamente e quindi poi potresti anche non andare a vendere più su ebay per sempre quindi la cosa principale è quella di non commettere errori all'inizio perché state pur certi che se voi mettete in vendita un prodotto come ad esempio questo su ebay all'inizio su un vostro account che avete o esistente oppure che lo andate a creare adesso voi andrete ad incorrere in una chiusura del vostro store questo senza ombra di dubbio quindi dovete andare a prendere delle precauzioni prima di mettere in vendita effettivamente i prodotti e questo come si fa lo spiego all'interno del corso perché appunto sono delle cose riservate ai miei studenti c'è una metodologia da seguire che è veramente molto semplice in realtà per quando appunto vuoi iniziare a vendere su ebay altrimenti potresti avere questi problemi che ho detto prima una volta fatto quindi questo primo step per evitare di incorrere in questo problema poi non lo avrai più per tutta la durata del tuo store e quindi puoi mettere in vendita tranquillamente tutti i prodotti che vuoi come fa anche questo venditore che abbiamo visto e quindi poi non ci saranno più insomma problemi di alcun tipo quindi la cosa principale comunque è quella di stare attenti all'inizio quindi se volete in descrizione trovate progetto freedom che è il percorso di formazione che vi spiega come andare a vendere online in dropshipping tramite ebay tramite etsy tramite anche il vostro e-commerce quindi andando a vendere sia prodotti fisici che digitali e quindi viene spiegato a 360 gradi come vendere tramite il sistema del dropshipping poi come vedrete dal sito anche ci sono numerosi bonus per tutti i miei studenti come lo store creato da me 150 euro da poter spendere in campagne pubblicitarie anche il mio supporto costante diretto quindi per qualsiasi cosa io ci sono sempre mi potete chiedere tramite i contatti che fornisco all'interno del corso io vi rispondo subito e poi se avete bisogno per settare una data cosa per andare a scegliere un prodotto se può essere interessante o meno eccetera eccetera io sempre sono disposto a darvi una mano senza alcun problema poi come altra cosa che troverete sarà il rimborso garantito del 200% se non guadagnerete almeno 500 euro netti applicando le metodologie che spiego dentro il corso quindi con questo credo di aver detto tutto e noi ci vediamo come sempre dentro progetto freedom vi aspetto